La verità sia con la conformità dell'intelletto con una cosa, e cioè che il nostro modo di stare al mondo sia quello di una sorta di specie che guarda le cose come sono, è rispecchia e poi menuncia in proposizione. Sta piore, sta piore, sta piore, questa proposizione, ma come si dice corrispondenza, no? Corricidenza, no? Procomitanza. Non procomitanza, è un'espressione da T, ma si dice. Adequazio. Adequazio. Questa è la concezione dell'elequazione dell'intelletto con la cosa. Era coinvolizzante e dava luogo dal punto di vista della credenza religiosa a quello che poi è stata la filosofia e teologia di San Dommaso completa. Cioè, noi guardiamo il mondo, lo vediamo come, lo destiniamo relativamente, lo enunciamo relativamente, il mondo è quello che è, ci si presenta con le sue strutture, che sono quelle che ha studiato da Aristotele, l'essere, tutte le forme di predicazione di come sono le cose, sono il movimento, non sono il movimento, ci sono cose che si muovono, anche che non si muovono, Aristotele dice che quelle che si muovono e che si possano trasformare a un tempo della fisica e quelle invece che sono stabili, eterni, sono il tempo della metafisica. Se c'è Dio, diceva San Dommaso, deve essere un oggetto della metafisica, deve essere uno che non si muove, non cambia, se no che lo vuole. E questo è andato anche così, per tanto tempo, non so, ma, per spiegare il cristianesimo a quelli che non l'avranno ancora conosciuto, San Dommaso partiva lì e lì, partiva. Diciamo, lui ha scritto anche tra le sue summe, c'era una summa contro geni, che era un manuale missionario per quelli che vanno dai selvaggi e non sanno niente, e gli spiegano che disse Dio, che esiste, perché le cinque vie è andata a causa, a effetto, perché le altre cause, è la causa suprema di tutto il movimento di Dio, Dante, di cui appunto io sono un antorevo, come diceva, si sosteneva che l'amore che muove il sole e le altre stelle, cioè Dio crea il mondo, ma lo crea non perché sia un artigiano che prende la materia, perché ovviamente la materia non c'è prima di lui la crea, ma la trasforma, la crea, la nulla, la modifica, la muove, non tanto come causa efficiente, come noi abbiamo un'artellata, ma come causa finale, cioè tutto l'universo che aveva in mente Sant'Ormalo e Aristotele e l'universo in tante era, c'è la Terra qui in mezzo, tutti i diametri sulle loro varie orbite, i dodici segni dell'Ottodietto, sono i dodici, lo dice, eh, forse, non so quanto scopo, e se io sono stato sotto il segno dello scopo, eh, va bene, e uno di questi pianeti, c'è il mondo dell'Occorso, perché lo chiamo Saturno, allora, c'è il mondo, la Terra è in centro, poi ci sono i vari pianeti intorno, poi, l'ultimo, eh, c'è anche il sole, e poi tutto questo perché si muove? Perché Dio lo muove per il mondo di causa finale, come, poi Dio dice, di nuovo verso, di te perché mi attiva il tuo sorriso, i tuoi occhi, e questo era più o meno l'universo come pensava un Santo Paolo da te, cioè c'era tutto un sistema fisico prodotto, creato da Dio nel niente, che si muoveva, perché Dio lo attirava, come dire, per far muovere i pianeti, eccetera, eccetera, c'è, è quello che in alto, nello direi come, chiama la nuova, che muove il sole dalla stella, è come se, un grande, una grande forza attrattiva, che ti era avanti tutto, e se diciamo, capisci, la causa, materiale è, per riscaldarti, è bisogno di un corpo caldo, è bisogno di una causa efficiente, che ti scaldi, ti accosti al fuoco, anzi, non stai attendo più lusso, però tutto il baracone, nel suo insieme, è mosso, da Dio, come il suo, a causa, il suo reno finale, oggetto di amore, dunque, insomma, la vera commedia, l'avete, l'avete studiata anche voi, e questo è un'altra cosa, tanto bene, ma, come è, invece, l'iscrizione, come è un'idea, appena, ma in un minuto, perché, non si chiama, sull'intervento. Questo, nella filosofia di San Tommaso, allora c'è, come dire, questa grande costruzione, del mondo, dove Dio agisce, anche attraverso i suoi, per esempio, i suoi pianeti, San Tommaso, non era, tanto avvenuto per la sua rosina, perché, i pianeti, essendo, e giro in un'ora, non a producere maree, non so se abbiamo accorti, già allora, ma certamente, come dire, tutto questo movimento, è, organizzato, da una specie di, motore supremo, che però è immobile, perché, deve essere eterno, se fosse immobile, potrebbe consumarsi, deve cambiare, e lì, si mischia, come dire, la filosofia, di Aristotele, con la teologia cristiana, insomma, San Tommaso, qua, ai missionari, che istruiva, con la Somma, con i potenti, consigliava, di andare, dai non cristiani, dai selvaggi, con la natura, c'è un Dio, disfacente, come dice, guarda, te lo dimostro, lo siano, questo Dio, poi, ha comunicato, con noi, non solo, con la natura, nel senso, di dire, che, che è, dentro i monti, con il seco, tenne, ma anche attraverso, direttamente, con, mandandoci un idiato, che è il suo figlio, e questo è il suo figlio, grandezza, cioè, la struttura del rapporto, tra, metafisica aristotelica, diciamo, mettonistica, e cristianesimo, era, la metafisica aristotelica, ci spiega, tutto l'ordine naturale, in relazione a un, motore supremo, che si chiama, che è la storia, perché non la vive, perché la metafisica aristotelica, si chiama anche teologia, cioè, era, diciamo, la scienza, dell'essere stesso, sussistente, che dava l'essere, tutti gli altri, Aristotele non era un relazionista, non pensava che fosse, che Dio avesse creato il mondo, diceva, che preferiva pensare, che il mondo fosse eterno, perché, da questo comincia, introdurre un cuneo, nella metafisica classica, se Dio a un certo punto, crea il mondo, vuol dire che non è proprio così, imputabile, perché prima non lo creava, dicendo che, allora, lo stesso, Dandornasso, da qualche parte, dice che, dal punto istorazionale, sarebbe più facile, pensare il mondo come eterno, che come creato, perché, altrimenti, si introduce, come, in Dio, una iniziativa, che, si, forse, io, abbia deciso, dall'eternità, che a un certo punto, lo è un mondo, però, per questo, ci possiamo, dare, una comprazia, deboli, e quindi, c'è, come dire, una corrispondenza, un'avveguanza, della, regolazione cristiana, con, la verità nazionale, identificata, nella costruzione aristotelica, del mondo, il primo motore, il Dio immobile, e, noi, iniziativa, sì, il Dio immobile, iniziativa, ma, ci ha montato, a un certo punto, un figlio, diciamo, un figlio, la ricorda, naturalmente, si sarebbe riportato, nella tonda, e, diciamo, io, avevo anche un figlio, e, questo, rappresenta, diciamo, la contaminazione, la mistura, della rivelazione cristiana, con la filosofia aristotelica, però, la rivelazione cristiana, è un Dio, che, appunto, essendo soprannaturale, non necessariamente, deve, corrispondere ai nostri schemi, e, quindi, al massimo, la filosofia, è a dire, ci deve essere un Dio, questo Dio, può, non parlare con l'umanità, si procedia, perché noi, dovranno porti dei limiti, e, qui, poi, parla la scrittura, cioè, parla, prima, il Dio, il Testamento, il Nuovo Testamento, la rivelazione, Gesù, eccetera, eccetera, e, questo, effettivamente, è annulato, questo modo di pensare, l'accordo tra cristianesimo, e filosofia, è annulato, per secoli, per alcuna, con la personale, diciamo, nella filosofia, cartonica, più, rigorosa, tutto sommato, ovviamente, io non sono, io sono, professore, un orario, della Pontificia, Università, cartonica, del Perù, ma, non, di Roma, quanto più, se trondiamo da Roma, tanto più, è facile, che prendono, sul serio, anche con la cristiana, se andate a Roma, non c'è, no, che è un momento, calmo, anche se io, dei buoni amici, a una Gregoriana, Carmelo Totoro, che è un professore, della Gregoriana, è uno che, ha scritto anche un libro, che parla della mia filosofia, quindi sono riflessi, sulla teologia, ma, certo, però, non è, non è così ben visto, per questo, cioè, è tollerato, perché, non è, se può più, non parliamo di Totoro, come come, di Grazie, di Provere, qual è un'unimatico, come un signore, lasciate un'unimatico, perché, se non, poi, magari, non lo cacciano qui, e, allora, questa è la situazione, della tradizione, aristotelica, di Domista, nella quale, anche, sono già portati, come studiare, in una città, perché sono già giocati, con Masomo, con un signor Caravello, fino a noi, facevano, i momenti, di Damo, non è giocco, per articolo 42, altri fratelli del secundi, a primi, perché poi ci sono le risposte, le obiezioni del cosmo, insomma, il Santo Malo, la dice qui, nella prima obiezione, c'è la risposte, ma, e, che succede, del tonismo, nella tradizione occidentale, può colpire, naturalmente, la chieda, tra quale, però, adesso comincio a parlare, delle cose, ma in cui, dopo, non funziona, tutto, tanto il male interviene, sì, lo colpire, ma, anche, come dire, è, è,